Dica per colpa mio, adesso sono proprio io, non semplicemente le due parole riguardo Gigi. Allora siamo qui tutti per ricordarsi di Gigi, io non lo conoscevo profondamente, era una conoscenza anche, diciamo, dei primari più grandi, però ho avuto modo di stimare Gigi come persona, era una persona veramente di cuore, molto despedibile verso... gente, bambini bisognosi, ha partecipato con noi per una volta di beneficenza per i bambini del reparto Chiosi di Bergamo, erano grandi, erano grandi uomini, ci stiamo divertendo, sono convinto che Gigi ci sta ascoltando, adesso non sta parlando, è che non è sofferto, ci sta divertendo anche lui, sono sicuro che ci approva lui, non stiamo qui, non stiamo fermando Gigi, non stiamo ricordando, è anche la persona allegra e non stiamo con l'allegra. bravo Danilo!